buonasera cari amiche e cari amici buonasera vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video buone notizie questa sera tre belle notizie e una notizia che così possiamo commentare le belle notizie parlano partono e parlano della situazione campo perché il milan è tornato ad allenarsi c'è benasser come vi avevo detto perché a me piace dare se riesco a dare le notizie più precise possibili vi avevo già raccontato come sarebbe come sarebbe si sarebbe sviluppata la questione ritorno di benasser qualcuno aveva detto ma si è infortunato vi avevo detto non ha nulla solo prevenzione prima che poi possano nascere dei problemi e così è care amiche cari amici primo punto benasser è tornato anche terracciano nel gruppo leao non so se tornerà penso domani e via che si parte per la preparazione con la formazione è sempre avviata con un megnan calabria ciao tomori e te ornande non c'è purtroppo e quindi florenzi a sinistra florenzi a centro campo con loftus chic più avanti probabilmente benasser e reinders che sono reinders in grande condizione psicofisica dopo il primo gol realizzato con la nazionale olandese e là davanti pulisic che domani mattina vi mando anche l'immagine se la trovo di questo dribbling da cui è nata la prima azione degli stati uniti che hanno battuto con adams il primo gol hanno battuto cio a portiere che a me è sempre piaciuto della salernitana e dicevo pulisic protagonista negli stati uniti da capitano leao a sinistra e davanti girù in una trasferta sempre ostica complicata non ricordo vado a devo andarmi a ricordare quasi quando una bella rotonda vittoria autorevole più che rotonda autorevole vittoria del milano a firenze un campo sempre complicato con un allenatore che ha sempre in casa e fuori quindi alla spezia o a milano a firenze o a milano ha sempre creato problemi al milan l'allenatore italiano quindi queste le notizie di campo prima di parlare delle notizie riguardanti lo stadio andiamo a dare l'altra bella dopo vado a prenderlo la notizia che mi sono scritto la situazione Xirze perché leggendo sul sito calciomercato.com ho letto perché bisogna addentrarsi bene e leggere i dettagli delle trattative o meglio degli accordi ecco Xirze è certamente un obiettivo del milan complicato difficile costoso ma vi ho già detto che per quello che riguarda gli attaccanti il milan sa di dover spendere tanto e sa di dover di dover investire denaro bello 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 pesante e allora Xirze speriamo sempre che si possa inserire un giocatore che se tornasse a milano il rendimento e l'aiuto ce lo dà sempre come il buon Sele Mekers tra parentesi però se è molto apprezzato il titolare se si trovasse un accordo dove inserire anche il denaro per per Xirze compreso magari uno sconto con l'inserimento di Xirze come vi hanno detto più di una volta sarebbe importante ma qui sono notizie che non interessano perché non sto dando notizie riflessioni no la cosa concreta è che Xirze in un certo periodo della campagna acquisti può intervenire il Bayer mettendo i 40 milioni abbiamo già letto che il Bayer non sempre intenzionato ma quello che ho letto che io mi era sfuggito che anche se il Bayer interviene il Bayer Monaco interviene la decisione di andare al Bayer Monaco è sempre in ogni caso di Xirze cioè non è che se mettono i 40 e Xirze non voglia andare deve andarci per forza no l'ultima parola aspetta a Xirze che più di una volta ha fatto capire a meno che gli diano un ingaggio da 25 milioni di euro allora è chiaro che vada lì però ha sempre fatto capire che non gradirebbe il ritorno in Germania poi bisogna vedere da qui a dire che arrivi al Milan è ovviamente un azzardo ma certamente possiamo dire che se non avesse offerte importanti per esempio della Premier League il Milan ha le sue chance sempre che punti su Xirze che metta il denaro magari con delle contropartite tecniche ma quello che mi interessava sottolineare è che comunque l'ultima parola per quello che riguarda il Bayer Monaco spetta a Xirze oltretutto il Bayer Monaco prenderebbe il 40% sulla plusvalenza nel caso venga ceduto a un'altra squadra in questo caso il Milan ecco per questo motivo qualcuno dice che il Bologna cerca la cifra più alta possibile perché se la cifra è bassa e debba già dare il 40% al Bayer al Bologna rimane poco dopo aver diciamo così permesso a Xirze di di diventare un giocatore di essere cresciuto poi quando cresci un giocatore poi lo perdi ne sappiamo qualcosa dispiace sempre e si acuisce il dispiacere quindi ecco la cosa che volevo darvi su Xirze poi per le altre domani vi preannuncio domani alle 18 un se tutto va come debba andare secondo i miei programmi un'intervista con la settimanale intervista con il buon Luca Diddi e Luca Diddi ci può sicuramente parlare a livello tattico degli obiettivi del Milan cioè una disamina tattica e tecnica di Xirze sicuramente di Sesco e sicuramente di Chiocheres che è l'altro giocatore che interessa al Milan ma veniamo alla questione stadio allora il sindaco legittimamente ovviamente Beppe Sala sindaco di Milano oggi intervistato ha detto la UiBuild in tutto ciò la principale azienda italiana di costruzioni ha proposto al comune e alle squadre di realizzare pro bono uno studio per la ristrutturazione di San Siro nella convinzione che i lavori si possono fare limitando al minimo la perdita di pubblico questo studio che verrà ora realizzato in collaborazione con le squadre ecco già sarà pronto per giugno cioè ogni passo che si fa lì tre mesi due tre mesi cioè il Milano è l'intesto scappate via anche perché o vorranno scappare via perché a ogni passo ci vogliono burocratica quello che volete dei mesi qui adesso bisogna aspettare giugno va bene ristrutturare San Siro significherebbe minori costi per le squadre minore impatto dei lavori sul territorio riqualificazione della zona circostante ed ulteriori intermenti su tutte le altre tematiche legate alla destinazione dell'uso dello stadio tra cui concerti eccetera questo dovrebbe dirle anche i vari comitati dovrebbe dirlo ai suoi consiglieri comunali magari di altri partiti quindi minore impatti sul minore impatto dei lavori sul territorio queste cose le devi dire non al Milano e all'Inter il sindaco Sala ma quindi giugno cioè appena giugno ma la bella notizia che volevo darvi care amiche e cari amici riguarda San Donato l'altro giorno ho letto una corrispondenza del sempre attento Simone Cristallo di Radio Rosso Nera sulla questione stadio che l'ha presa a cuore e la sta seguendo in maniera capillare ebbene la novità o perlomeno magari non è una novità ma a me è risultata novità e è risultata novità anche per tanti altri la cosa fondamentale la cosa fondamentale è cercare di non andare in macchina e quindi vi dico cosa succede e soprattutto nel caso si dovesse andare via rotaia da evitare tassativamente tassativamente perché sennò cade tutta la poesia del nuovo stadio il fatto di arrivare alla stazione ipotesi di Rogoredo con la gialla e poi prendere le navette ecco voi tutti ricordate quando non c'era ancora la viola si andava a San Siro e si andava in piazzale Lotto con la linea 1 poi si doveva decidere se andare a piedi che tutto sommato non era neanche una cosa lunga si fa la passeggiata col cuscinetto e la bandiera oppure prendere le navette della TM un usiamo delle parole fini una massa di gente una sopra l'altra con queste navette che continuavano a portare una cosa insostenibile insopportabile ora la novità è che sembra che nel piano nel piano che verrà studiato nei prossimi 18 mesi ci sia la possibilità di arrivare a Rogoredo cambiare e andare su un pezzo sulla rotaia all'aperto circa due minuti di viaggio dalla stazione arrivare alla stazione prossima prossima al futuro stadio quindi si arriva a Rogoredo si cambia si sale altro trenino e si arriva addirittura due rotaie dovrebbero essere e si arriva allo stadio qui allora si ragiona perché per chi non è di Milano la linea gialla è meravigliosa arrivi alla Malpensa sono 20 minuti per arrivare alla stazione nord due minuti per prendere la gialla andare in piazza Duomo e un quarto d'ora da piazza Duomo a Rogoredo cioè praticamente in un'ora seduto qualsiasi tempo fa c'è seduto e non prendi una goccia d'acqua arrivi da Malpensa allo stadio quindi sempre via ferrovia quindi sarà fondamentale questa cosa e ce l'hanno confermata che sembra si vada su questo perché d'accordo però è sempre vicino alla tangenziale bisogna vedere gli svincoli però ci si aspetta un traffico invece con la gialla si arriva in maniera meravigliosa da tutte le parti da Milano da Linate anche lì facilissimo arrivi San Babila Duomo e poi se non ci sono altre forse ci saranno anche altri incroci non lo so non l'ho mai presa da Linate ma nel giro di mezz'ora da tutte le parti di Milano se arrivi arrivi con la gialla a Rogoredo quindi questo è un fatto importante i binari senza navette che ci portano al nuovo stadio quindi continuiamo a parlare di WeBuild però vi assicuro che Tim Romani è già venuto anche nelle ultime settimane più volte a Milano per vedere per parlare quindi non credo proprio che salvo cataclismi salvo clamorose sorprese ci saranno delle diciamo delle inversioni a U per rimanere a San Siro mi sembra sembrerebbe molto molto strano se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegratti attivate la campanella e scaricate il link in descrizione